Sin dall'immediato post-sisma che ha colpito Amatrice e da altri comuni e frazioni umbre e marchigiani, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha lanciato l'appello. Subito a disposizione 250 alloggi del progetto case per gli sfollati che ne avessero bisogno e ne facessero richiesta. E a due giorni dalla tragedia che ha colpito il centro Italia e commosso il mondo intero, arrivano già le prime assegnazioni. Abbiamo ricevuto delle richieste da parte dei cittadini di Amatrice ed Accumuli di mettere a disposizione immediatamente l'ospitalità e siamo ovviamente in contatto con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e in accordo con loro stiamo procedendo a delle prime assegnazioni emergenziali. Ovviamente gli elenchi di queste persone che ci accingiamo ad ospitare verranno poi trasmessi al Dipartimento per il necessario raccordo. Molti ricordano le polemiche dei mesi scorsi e delle scorse settimane legate al progetto case. Centinaia di alloggi sono sotto sequestro perché costruiti male e ultimamente è riesplosa la grana delle maxi bollette per le utenze. Una questione è quella della rendicontazione dei consumi di cui però non si parla. Una questione è quella della rendicontazione dei consumi di cui ora non si parla, come è normale che sia in una fase di emergenza e di cui probabilmente si farà carico chiaramente per gli sfollati di amatrice d'accumuli, la protezione civile. Per il momento è un'assegnazione di carattere emergenziale che viene in ogni caso assicurata nell'emore di tutti gli accordi che interverranno con il Dipartimento di Protezione Civile che comunque è al corrente di quello che stiamo facendo.